La matita vagabonda di Franco Bevilacqua è scesa dai tetti e si è messa su strada. Un cambio di prospettiva che documenta il bello e il brutto di Roma. Dai due metri in su si respira l'aria magica di una città composta di cuglie e cupole, di terrazze e campanili. Osservata sotto i due metri si riscopre il suo meticciato. Documentare la bellezza di Roma che convive con la sua bruttezza, con il suo abbandono, con il suo senso di vivere alla giornata senza un criterio. Da due o da tre metri in giù è dominata dalle macchine, parcheggiate nei posti più impensati. Roma dal basso con i piedi per terra è un palcoscenico d'arte disdegnato dai suoi frettolosi frequentatori. L'illustrazione, più della fotografia o del filmato, sottolinea e illumina il bello che c'è. Anche i tuoi piedi lo mette a fuoco. Il disegno ti pone di fronte al punto di vista del disegnatore. Non è mai la realtà così come la fotografia riproduce, ma è una rienterpretazione di quello che si vede. È un libro di storia dell'arte aperto, basta girare per le strade di Roma e si incontra di tutto, dai primordi dell'arte, addirittura dal neolitico fino ai giorni nostri. Ci sono tutti gli esempi dell'architettura, della pittura. Basta entrare in una chiesa e si incontra come fosse un vecchio amico, Caravaggio, Raffaello, Pinturicchio. Sorgnona è scanzonata, la città che bevi l'acqua ama, lo spirito dell'illustratore catturato da un particolare, da un angolo anonimo, da una piazza nascosta, da un'ombra, oppure da un colore, schizzi quasi istantanee, di un aroma che c'è e non c'è più, che si scherma e si confonde. E solo l'illustrazione riesce a recuperare, facendo balenare la potenza del bello, documenti illustrati, bozzetti della città culla del bello. Io mi sono rimedesimato nei viaggiatori dell'Ottocento, del Settecento, che scoprivano Roma venendo dal nord, arrivando dalla Flaminia, e rimanevano folgorati dalla bellezza di Roma, del barocco e delle chiese. Le chiese dominano il panorama di Roma. Nel suo itinerario casuale, bevi l'acqua si è spinto fino ai bordi della città conosciuta, laddove le meraviglie dei ruderi sparsi si mischiano alle brutture della contemporaneità, spunti dell'architettura razionalista degli anni 30 e nel farlo appescato dalla sua tavolozza i colori di Roma, macchie calde e piene. È un colore caldo, molto sul mattone, però ci sono, emergono anche, per fortuna adesso li stanno ritrovando, colori originali, grigi, celestichi, pallidi, e rosa, che sono caratteristiche di questa città, che è tutta amalgamata. Non è sicuramente una città uniforme, è una città che ha un suo colore, ma molto vario. La caratteristica principale è che è un colore caldo, è affettuosa, e ti abbraccia con la sua bellezza e il suo colore. Prossima tappa della matita vagabonda di Franco Bevilacqua, una sosta casuale in periferia, nelle periferie romane, per trovare un segno di rammendo e di ricucitura.